Questo per usare un efemismo è solo l'aperitivo, un piccolo segnale che l'amministrazione comunale di Salerno vuole dare agli amanti del verde e dello sport, ma i progetti per il parco del mercatello che resta il grande polmone verde della città di Salerno sono molto più ambiziosi. Partirà a breve un'opera di riqualificazione dell'intera area con il rituizzo di spazi come per esempio quello che ospitava una volta il laghetto in chiave funzionare al tempo libero. Vediamo se funziona qua, pensiamo di estenderla anche nei altri parchi della città. Un piccolo inizio anche nell'ottica di un intervento un po' più importante che dovremo fare qui nel parco per riqualificarlo perché dopo un po' di anni insomma è anche opportuno dare una risistemata a questo che era e rimane il polmone più importante della città. Intanto in attesa che partino le opere da oggi gli sportivi potranno godersi questa piccola area attrezzata ed è anche guerra aperta non contro i cani ma verso i padroni degli animali che incuranti dei divieti continuano a portarli nel parco con gli altri fruitoni che continuano a protestare. In questo parco c'è una battaglia quotidiana con non con i cani assolutamente con i padroni dei cani che non hanno rispetto per le persone che frequentano il parco ma per questo c'è un'area attrezzata che è stata fatta apposta alle spalle del parco e non è possibile che ancora i bambini debbano incontrare difficoltà durante la giornata perché i padroni dei cani insomma se ne strafregano della serie di normi e quindi per questo eleveremo in maniera anche importante i controlli perché ripeto è un problema di vivibilità siccome questo ci viene chiesto quotidianamente è una cosa che dobbiamo prendere in considerazione e dobbiamo alzare l'asticella. Grazie.